Da lunedì 26 febbraio, Vera TV raddoppia! Ogni giorno sei differenti edizioni dei nostri telegiornali. Alle 13.30, 19.20, il TG Abruzzo. Alle 14.00, 19.30 e 20.30, il TG Marche. Alle 7.00, non perdere la rassegna stampa. E per tutte le ultime news, vai sul nuovo portale www.veratv.it Vera TV, l'informazione per tutti e di tutti.